La torre civica di Città di Castello è entrata a far parte dell'osservatorio sismico delle strutture nell'ambito delle protocolle d'intesa tra regione e dipartimento di protezione civile nazionale che coinvolge anche la rete accelerometrica. Mentre sarà controllata nel tempo reale 24 ore su 24 per verificarne la tenuta statica, grazie ai dispositivi tecnologici installati al suo interno, il monumento sarà un laboratorio che contribuirà agli studi di ingegneria sismica sul comportamento delle costruzioni dell'OS, una delle reti di monitoraggio strutturale con i più elevati livelli di efficienza e omogeneità strumentale nel panorama mondiale. Nel ventre dell'edificio è stato installato un sistema di rilevazione costituito da 5 sensori digitali di piccole dimensioni, di cui uno posizionato al piano terra per registrare il moto del terreno. Grazie a tali dispositivi che sono già operativi, la torre civica è stata collegata alla rete di monitoraggio dell'osservatorio sismico delle strutture. I dati registrati mediante teletrasmissione dalle centri di acquisizione ed elaborazione della protezione civile saranno diffusi all'interno della comunità tecnico-scientifica e contribuiranno non solo agli studi di ingegneria sismica sul comportamento delle costruzioni, ma pure a valutare le condizioni degli immobili pubblici di interesse strategico monitorati, nonché ad impostare le modalità di risposta della stessa struttura di coordinamento del Ministero per la gestione dell'emergenza sismica.